benvenuti telespettatori di le fonti tv con questo appuntamento speciale di book crossing la felicità il concetto forse più ineffabile della storia ma che diventa oggetto di un indice e anche di un report ormai da ben 12 anni ebbene ne parliamo con chi si è fatto anche un po promotore di di questo report ma anche di questo concetto anche del cosetto phil anziché pil cioè della felicità interna lorda ho il piacere infatti di avere qui con noi andrea illy grazie per essere qui italia felix è il titolo del del suo libro che parla proprio e tratta il tema della felicità felicità come nuovo criterio da associare al mondo economico per quale motivo io credo che il fine ultimo dell'economia sia quello di la prosperità che un altro modo di dire felicità prosperità economica prosperità sociale dunque proprio prosperità socio economica e se vogliamo dal punto di vista filosofico il fine ultimo della nostra esistenza quello di migliorare l'umanità la civiltà e quindi il fatto di finalmente porre l'accento su questi aspetti è fondamentale ma è fondamentale anche perché stiamo vivendo un momento di transizione da un'era ad un'altra noi siamo figli della boom economico del secolo scorso che ha visto una crescita esponenziale della popolazione quando sono nato io eravamo meno di metà e naturalmente questo genere di evoluzioni tumultuose che erano dei grandi squilibri uno dei tanti più forti squilibri che ha creato è stato il riscaldamento climatico piuttosto che un aumento esponenziale del debito pubblico a livello mondiale piuttosto che fenomeni migratori che non sappiamo come gestire eccetera ecco tutti questi squilibri adesso devo ci vorranno molti decenni se non secoli per riequilibrarli ma ce ne sono alcuni che sono potenzialmente irreversibili e mi riferisco in particolare all'aspetto del clima cioè noi stiamo traguardando una tale distruzione climatica da rendere incompatibile il pianeta con la sopravvivenza di molti di noi e quindi se corriamo i ripari molto rapidamente ma stiamo parlando proprio di molta fretta possiamo ancora rimediare e questo lo possiamo fare perché esiste un abbondanza di conoscenza scientifica di tecnologia di mezzi finanziari per farlo ciò che invece bisogna diciamo allocare più velocemente sono le scelte industriali le scelte di investimento le scelte soprattutto dei consumatori per andare in quella direzione quindi è un modo anche di sensibilizzare ecco la felicità è quella necessaria prospettiva del lungo termine che motiva anche le persone a fare delle scelte perché se uno è depresso difficilmente si interessa del futuro. Infatti proprio il sottotitolo anche del suo libro come superare la crisi e ritornare a sorridere quindi anche questo è significativo. Lei ha citato i criteri che anche la finanza e in generale nel contesto economico cercano di applicare i cosiddetti criteri ISG di finanza sostenibile questo report è stato realizzato anche con il supporto del professor Jeffrey Di Sacks che è uno dei massimi esperti anche per le Nazioni Unite di questo tema. Secondo lei quanto attualmente c'è di marketing un po' da parte anche di alcune società e aziende e quanto invece si sta concretamente mettendo in atto? Beh se parliamo del marketing in termini spregiativi del greenwashing spero che questo sia dietro alle nostre spalle. Dico sempre che è tempo di sostenibilità 2.0 ancorché durante la 1.0 si sia stati raggiunti importanti risultati perché oltre alla consapevolezza si sono anche sviluppate molteplici nuove tecnologie che impattano su diciamo il problema più importante che è quello dei combustibili fossili. Oggi si potrebbe fare una transizione verso una carbon free society perché i mezzi sono a disposizione quindi questo risultato della 1.0 è positivo ma in una sostenibilità 2.0 bisogna puntare molto velocemente alla decarbonizzazione totale e poi al sequestro di carbonio della nostra società e questo implica un impegno sia sociale a livello dei consumatori sulle scelte di consumo che fanno che dell'industria molto importante e questo aspetto è molto rilevante perché non bisogna mai dimenticare che due terzi circa dell'economia e della società quindi in termini di occupazione di pil di investimenti e di innovazione sono tutti provenienti dal settore privato quindi sono innanzitutto le aziende che devono cambiare se vogliamo una società migliore dobbiamo migliorare quelle e questo è il senso di questo ISG che è un modo molto efficace di monitorare l'impegno sull'ambiente sulla società e sulla governance delle delle società quindi io ci credo ci credo molto agli ISG trovo molto positivo e credo anche molto alla spinta da dove la diciamo la provenienza della spinta sugli ISG che quel mondo finanziario pochi sanno che ormai la cosiddetta investimenti sostenibili rappresentano 25 trilioni che sono quasi un terzo quasi un quarto siamo più di un quarto del pil mondiale e all'interno di questi diciamo investimenti sostenibili sono crescenti e pesano già oltre 100 miliardi cosiddetti impact investment che sono investimenti con un risvolto sempre sociale o ambientale ancorché talvolta ma non sempre con dei rendimenti più bassi quindi la finanza l'ha capito molto molto bene anche perché investimenti non sostenibili anche a parità di cash flow sono meno redditizi perché la componente del rischio le cosiddette liability in inglese aumentano il costo del denaro e quindi rendono minore il ritorno sul capitale quindi se la finanza ci crede se le tecnologie ci sono allora le istituzioni hanno fatto il loro passo i loro passi non dico che avrebbero potuto fare di più però insomma molto è stato fatto anche a livello di normative e di commitment diciamo di lungo termine adesso è il mondo è il momento del mondo privato quindi del mondo dei consumi e dell'industria di andare con grande decisione verso un mondo sul più sostenibile ecco un'ultimissima domanda riguarda proprio il welfare lei lo cita all'interno del del suo libro che forse in europa insomma abbiamo più welfare rispetto ad esempio al contesto statunitense e il report indaga il rapporto la relazione tra felicità e comunità ecco come pensiamo ad esempio anche un sistema italia il welfare aziendale e sociale può essere migliorato il welfare è una delle grandi formule della felicità infatti i paesi campioni del mondo per welfare sono i paesi scandinavi e non a caso sono i primi quattro sul ranking di felicità però non basta dire welfare bisogna anche che questo welfare sia ben gestito nel modo da infondere fiducia nei confronti dei cittadini nel senso che i cittadini consapevoli ed eventualmente anche come dire non dico felici ma insomma consapevoli del fatto che pagano delle tasse però avere per avere degli impegni dei servizi importanti da parte del pubblico in cambio quindi il welfare ha bisogno in italia se vogliamo di molto da questo punto di vista di dare un'impressione di essere ben gestito di dare ma soprattutto prima di tutto ancora essere sostenibile perché noi abbiamo un sistema di welfare che non è non è sostenibile sotto il profilo finanziario oggi lo è ancora di meno dopo le recenti riforme e quindi è chiaro che un welfare così forse fa fare il colpaccio ad alcuni contemporanei che vanno magari in pensione un po' prima e così danno il voto però sostanzialmente sottrae l'opportunità di avere le pensioni piuttosto che dei servizi sanitari efficaci alle future generazioni e quindi un po' se vogliamo ci vuole anche oltre che maggiore conoscenza diciamo proprio economica dietro il modo con il quale i welfare sono le riforme sono impostate forse anche più etica perché credo che il fondamento dell'etica sia quello di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a se stesso e quindi se tu ti porti a casa metà della torta adesso sottraendole alle future generazioni questo forse non è tanto a etica lei infatti chiude il libro proprio con una lettera ai millennials cari millennials che cosa ci manca per rendere l'Italia un paese più felice? direi a questa risposta lasciamo alla lettura questo punto del suo libro io ringrazio ancora Andrea Illy per essere stati con noi e vi ricordo Italia e Felix edito da PM grazie per essere stati con noi